13enne, dopo aver mandato una foto a un giornale. Viene contattata e comincia la sua carriera con i fotoromanzi di cui era appassionata. Studia edizione per passare ancora giovanissima al cinema. Facendo a 17 anni la comparsa nella via degli angeli di Pupi Avati. Oltre ad altre importanti produzioni del piccolo schermo. Esordisce al cinema da protagonista nella prima volta di Massimo Martella. Prodotto da Fiorenzo Senese insieme con Antonio e Pupi Avati. Il suo primo ruolo significativo tuttavia è Zora. Nell'esordio cinematografico dei Manetti Bros. Zora la vampira. Divertente commedia horror cult girata nel 1999. Con Carlo Verdone che è anche produttore del film. Uscita nel 2000 per la distribuzione di Cecchi Gori. Nel 2000 è di nuovo protagonista in commedia sexy di Claudio Bigagli. Con Ricky Tognazzi, Alessandro Benvenuti ed Elena Sofia Ricci. Inoltre nel 2004 gira un videoclip con Max Pezzali dal titolo Il mondo insieme a te. A 27 anni si trasferisce a Londra dove lavora come cameriera. Torna in Italia per partecipare a un provino e viene scelta per il loro ruolo di Veronica. Giovane amante del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Non prendere impegni stasera di. Gianluca Maria Tavarelli. Per il quale riceve il premio Wella Cinema Donna come attrice rivelazione al 63esimo a mostra. Internazionale d'arte cinematografica di Venezia.